Questo primo numero, la prima copertina è dedicata proprio al fatto, al perché Papa Francesco ha voluto consacrare il suo pontificato alla Madonna di Fatima, spiegando che il fatto che lei sia apparsa tra i pastorelli ci vuole dire che più si è semplice, più si è umili, più ci si avvicinano alla verità di fede. Qui invece è una testimonianza che riguarda i ricordi di Carlo Verdone su Alberto Sordi e sulla devozione specialissima che lo legò alla Immacolata. Una devozione mariana era nata da quando lui era bambino e era proprio qui a Roma, a Santa Maria Trastevere, sotto casa, era sopravvissuto di un soffio all'investimento di una delle prime automobili. Quindi la madre aveva ritenuto la Madonna della Clemenza, che viene venerata lì a Santa Maria Trastevere, la salvatrice del figlio. Tanti giornali popolari, quasi, passatemi l'espressione, scandalizzano la religione, ossia usano l'argomento religioso in maniera esasperata, inducendo il fanatismo. Invece noi usiamo i toni e la grafica popolare per diffondere i veri valori di fede. E quindi, diciamo, la vera devozione mariana che significa una presenza di conforto nel quotidiano e non necessariamente, diciamo, il fenomeno soprannaturale. Forse il più grande, diciamo, bisogno che c'è è proprio riscoprire questa semplicità della fede vissuta nel concreto.